A cheppe cannavaran E poi come fai a intendere con questi qui? Già non ci sentente dei qui e dei lai E come fai a intendere con musulmani? Già con uno che rifiuta il salsiccio sul fuoco Il suo manco di attirare Dice che è la religione Ma che è? La religione Stan tutti a pregare tre volte al giorno Cubiti raso terra Parcano perso le lenti a contatto Io al prete gli faccio da manco l'acqua santa Con la scusa glume dove da noi è l'artrosi Questi fanno il ramadan Ne fanno, hai capito? Tanna a digiuno Figurati io per la vigilia mangio il migliaccio Ma di che bugio ti attirà con questi qui? Della scoliosi dei cammelli Dice ma è importante Perché conosci gente di altri paesi Io conosco già il mio cognato di Cigiano E mi avanza Hai capito? Io sono venuto qui perché la gente Ti avvicina perché l'uomo fa schifo Perché senta di grattarti i quadrini In qualsiasi istante Al telefono Nella macchina Quando sei al ristorante Allora io ho fatto bene un decalogo Per non se fa rinculare quando non è fuori Promozioni telefoniche Quando ti telefonano Pronto? Ha due minuti per parlare con noi Certamente A ogni domanda Gli rispondo con Menociucci Alla seconda domanda De già non ho smesso Quando arrivano col banchino Li vuole firmare per la droga? Dico guarda Aspetta No tempo C'è andata via Messa secca Tu campi di marijuana C'è da annaffiarli Allora no Quando ti arrivano Con quel cazzo De mazzo De rose al ristorante Dai Compra una rosa Per il tuo amore Per la tua amorosa Dico guarda Ne importa Ne infoma Capito? Manca il semaforo Sei libero T'arrivo lì Con quella foto Finta E poi Se vedi Dai qualcosa Da mangiare Che mi inveri Il mio bambino Io gli tiro fuori La foto De fassino Lo vedi questo? È il mio figliolo Di solito Mi danno 4-5 euro A me Per dargli da mangiare Niente Fulti Se no Ce inculano L'altra mattina Ero a casa Ma arriva Quei di Geova Buongiorno Ha due minuti Per parlare Con Dio Dico guardi Mi si è rotto Lo scarico Della lavatrice Tutta la mattina Che c'è Chiattico Ma mi sa Che ci si intende Fogo Arrivederci Hai capito Te